Sabato mattina a Ragusa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà dell'SD Città di Ragusa. Presente nella conferenza stampa il presidente Nicola D'Amico, il segretario generale Alessandro Ragonesi, il responsabile relazioni, istituzioni e partner Vincenzo Appiano, il direttore generale Arturo Barbagallo, il responsabile area tecnica Santo Palma e il responsabile del settore giovanile Horacio Ursino. Gli argomenti trattati durante l'incontro con i giornalisti e tifosi hanno toccato da vicino il nuovo modo di approcciarsi alla realtà calcistica ragusana da parte della dirigenza e della proprietà. In particolare si è discusso su come rilanciare la società partendo dal ripescaggio in eccellenza, come investire nel settore giovanile e tutti gli altri aspetti tecnici del campionato 2018-2019. Il nuovo presidente Nicola D'Amico si è dimostrato pronto per questa nuova avventura. Grazie a tutti.